E' stato il capitano della nave nel film Titanic, e poi il re Theoden nel Signore degli Anelli. E' morto l'attore britannico Bernard Hill, interprete che deteneva il primato di aver recitato in due degli unici tre film della storia del cinema che si sono aggiudicati 11 premi Oscar, Titanic, e Il Signore degli Anelli, Il ritorno del re. Hill è morto oggi, domenica 5 maggio all'età di 79 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo agente Lou Colson alla BBC, e l'ha interpretato il capitano del transatlantico Edward Smith nel Colossal Titanic 1997, di James Cameron e il re Theoden nella trilogia Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Nato a Manchester il 17 dicembre 1944, aveva esordito al cinema nel 1982 in Gandhi di Richard Attenborough, per avere poi uno dei suoi primi ruoli da coprotagonista con Il Bounty, 1984, e di Roger Donaldson. Tra gli altri i suoi film figurano Le Montagne della Luna, 1990, e di Bob Raffelson, Spiriti nelle tenebre, 1996, e di Stephen Hopkins, e 1996, Fino a Prova Contraria, 1999, di Clint Eastwood, Sogno di una notte di mezza estate, 1999, e di Michael Hoffman, Il re Scorpione, 2002, e di Chuck Russell, Wimbledon, 2004, e di Richard L'Oncraine. Dopo un cameo in Operazione Valkyria, 2008, e di Bryan Singer, 2008, tra le sue ultime apparizioni c'è il Golden Ears, la banda dei pensionati, 2016, e John Miller. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.